Buonasera, dopo 20 miglia anche a Savona crescono le preoccupazioni per il continuo flusso di migranti, alcuni dei guardi si fermano proprio in città in attesa che la situazione ai confini si sblocchi e per questo ora viene chiesto un aumento delle forze dell'ordine sul territorio. Sono giorni che continua questo andazzo e prima di arrivare all'emergenza, in concomitanza peraltro con la stagione turistica, chiediamo che il governo si attivi e invii nuovi agenti per dare supporto alle forze di polizia savonesi. Lo dichiarano Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega Nord e assessore allo sviluppo economico, e Stefano Mai, già sindaco di Zuccarello e assessore regionale all'agricoltura. Già nei giorni scorsi Mai aveva effettuato un sopralluogo alla stazione di Savona ed era stato ricevuto dal questore. Per ora la situazione è sotto controllo grazie all'impegno delle forze dell'ordine, ha detto, ma temiamo che il numero di arrivi possa crescere. In tal caso, gli agenti nel servizio a Savona non potrebbero far fronte all'emergenza e occuparsi contemporaneamente, perché sotto organico, dell'ordinaria gestione della sicurezza, della prevenzione di furti e rapine, che come sappiamo in certi quartieri negli ultimi anni hanno già visto una crescita notevole. Abbiamo la stagione turistica pronta al decollo, Savona e la Liguria stanno investendo sul turismo. Non possiamo rischiare che le imprese e l'indotto del comparto subiscano contraccolpi negativi dovuti all'arrivo di immigrati in stazione e in generale in città. E dopo un lunghissimo silenzio il gruppo Colussi torna ad esprimere la sua posizione ufficiale sulla vicenda dell'Agnese d'Imperia. Ulderico Falconi, responsabile delle relazioni industriali, ha difeso il gruppo e criticato gli scioperi. La vicenda dello stabilimento Agnesi d'Imperia è stata oggetto nelle ultime settimane di attenzione da parte delle istituzioni e dei media con toni e argomentazioni difficilmente condivisibili. È quanto afferma in una nota ufficiale il gruppo Colussi che difende la propria posizione e critica gli scioperi messi in atto in questi giorni da sindacati e lavoratori. Nella nota si evidenza che il pastificio di Via Schiva è ospitato in locali che non ne permettono lo sviluppo e impediscono l'ottenimento di molte certificazioni di qualità necessarie per lo standard che il mercato richiede. Dito puntato anche contro la mancanza di collegamenti e logistica che, secondo gruppo Colussi, era stata segnalata alle istituzioni fin dal 2003. Infine, Ulderico Falconi, responsabile delle relazioni industriali della Colussi, sottolinea che dal 2009 a Imperia sono stati fatti investimenti per milioni di euro e che oggi l'impegno è quello di ricollocare i lavoratori. Sempre Falconi critica gli scioperi messi in atto dai sindacati che, a suo dire, rischiano di far venire meno il necessario spirito di collaborazione. Prossimo passaggio all'incontro fra gruppo Colussi e sindacati, in programma il 23 giovedì a Bologna. Prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro. Per perseguire questi tre obiettivi, Cia Liguria e INAIL da circa un anno hanno firmato un protocollo d'intesa. Prima della fine del mese si terranno due seminari dedicati alla sicurezza in azienda e all'utilizzo dei fitosanitari. Il primo seminario si terrà giovedì alle 14 alle 18 nella sala riunioni della Coppa Riviera dei Fiori e della Manitaggia. Il secondo appuntamento è previsto per lunedì il 27 giugno, sempre dalle 14 alle 18, nella sala convegni Cia di Savona. I nostri microfoni il presidente di Cia Liguria e il direttore regionale dell'INAIL. Da un anno Cia Liguria ha firmato un protocollo d'intesa insieme a INAIL per la sicurezza degli agricoltori. Sì, è qualcosa su cui crediamo molto. Tra l'altro tutto questo dà via in particolare dei corsi di formazione gratuiti che vedono come attore principale la sicurezza in azienda. E per sicurezza si intende a 360 gradi, quindi tutta la parte che riguarda gli adeguamenti di quello che può essere gli ambienti di lavoro e in particolare l'utilizzo dei fitofarmaci. Noi siamo molto attenti a questo aspetto, come lo sono i nostri agricoltori, sappiamo che il primo problema ce l'abbiamo noi, se e quando li usiamo. Quindi l'obiettivo deve essere quello di usare il meno possibile e nel modo più appropriato possibile. E questo di nuovo un altro aspetto importante e credo che vada pieno in quello che deve essere il nostro ruolo di confederazione, in difesa del reddito ma non solo, anche della salute di chi ci lavora e dei consumatori. I primi due seminari prima della fine del mese, dove? I primi due saranno il 23 giugno ad Arma di Taggia e il 27 giugno ad Albenga. Sono seminari che dal punto di vista della partecipazione ci risultano già molto frequentati, abbiamo già molte adesioni e contiamo di ottenere un buon risultato nella direzione di quello che ho detto prima. La sicurezza in azienda sul prodotto che esce fuori al massimo possibile. Quindi la provincia di Imperio e la provincia di Savona hanno questi due seminari e per la provincia di Genova e per la provincia di La Spezia quando? Ci stiamo lavorando, contiamo sicuramente di insistere in questa direzione e andremo a coprire tutto il territorio regionale, questo è quello che contiamo di fare, siamo partiti di lì e andiamo avanti. Infortuni in agricoltura, quanto pesano oggi sul bilancio dell'INAI? Guardi, gli infortuni in agricoltura sul bilancio dell'INAI all'evelo nazionale incidono per il 6,67%, parliamo degli infortuni, quelli in occasione di lavoro, è un dato importante. Se consideriamo che in numeri assoluti, semplicemente nel settore del commercio abbiamo poco più di 38.000 infortuni, mentre quelli in agricoltura sono poco meno di 38.000 e il totale settore manufatturiero si attesta intorno ai 78.000, tutti gli altri settori hanno numeri assoluti, valori inferiori. È importante anche il dato relativo agli infortuni mortali. Nel 2014 abbiamo ricevuto a livello nazionale 154 denunce di infortuni mortali, ovvero circa il 18% del totale. Quindi, proprio con riferimento agli infortuni mortali, è un dato importante se consideriamo che il totale degli infortuni, come dicevo prima, incidono per meno del 7%. Ora organizzerete due seminari con Cia Liguria proprio per creare anche una nuova sensibilità in tema di sicurezza. Sicuramente, questo della sensibilità al tema della sicurezza è uno dei compiti in cui l'Ineil è particolarmente impegnato e nel settore del ponente Ligure è un'attività che assume un'importanza particolare, perché il 70% degli infortuni in agricoltura in Liguria si concentrano appunto nel ponente Ligure e nel ponente Ligure abbiamo anche più dell'80% delle malattie professionali denunciate. Infatti, uno degli aspetti importanti in agricoltura è anche quello delle malattie professionali. Le malattie professionali sui quali noi cerchiamo di incidere anche con questo percorso, perché vogliamo appunto creare quella consapevolezza e dare quella informazione utile per prevenire le malattie. Con questo percorso che faremo ad Albenga e a Tangia parleremo proprio di rischio per l'esposizione a sostanze chimiche e fitofarmaci. Possiamo dire che questi due seminari con Celiguria possono anche rappresentare un esempio, un modello di collaborazione fra l'Ineil e un'associazione di categoria? Sicuramente. Il compito dell'Ineil è quello che può fare anche da facilitatore delle relazioni. L'Ineil si muove proprio secondo la logica della collaborazione, in particolare con le rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro. Quindi siamo per me effettivamente in linea con quelle che sono le scelte fatte dall'Istituto che vuole, in una materia così importante, coinvolgere proprio le rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro. Buone notizie per i pescatori liguri di acciughe. Sono infatti giunte le modifiche del disciplinare di produzione della IGP delle acciughe sottosale del Mar Ligure che, sempre nel rispetto del consumatore finale, introducono elementi di novità per i produttori liguri. E' stato ottenuto il via libera dal Ministero delle politiche agricole alle modifiche delle disciplinare di produzione della IGP delle acciughe sottosale del Mar Ligure. In Regione Liguria è stata data lettura delle modifiche agli articoli contenuti nel disciplinare. Le novità principali riguardano l'introduzione dell'utilizzo di contenitori d'acciaio e plastica alimentare per la sicurezza del consumatore, che per la salagione si affiancano alla ceramica vetrificata di difficile reperimento. Poi una migliore definizione dei territori di lavorazione dell'acciuga IGP sottosale consentita solo ai comuni che si affacciano sul Martireno. I produttori potranno quindi effettuare una salagione a regola d'arte, come vuole la tradizione ligure, nel totale rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare che riguardano i materi a contatto con gli alimenti a tutela del consumatore finale. Voltiamo pagina, via domani, gli esami di maturità negli istituti superiori della provincia d'Imperia. Sono oltre 1.400 gli alunni coinvolti, come ha spiegato i nostri microfoni, il provveditore agli studi, Franca Rambanti. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Allora ci siamo, esami di maturità domani al via, i numeri quali sono. Allora i numeri, ho il foglietto tanto per ricordare meglio, abbiamo in tutto circa 2.000 ragazzi che domani affronteranno l'esame, di cui per l'esattezza 1.418 interni e una cinquantina di persone che sono esterne, cioè sono privatisti. Abbiamo la bellezza di 75 commissioni con 42 presidenti e commissari sono 150, naturalmente per tutti gli 11 istituti di secondo grado. Quindi 11 istituti in provincia. Non ci sono i presidenti per tutte le commissioni, qualcuno avrà più di una commissione. No, ha due commissioni, sì. Una volta addirittura il presidente doveva gestire parecchie commissioni, adesso da parecchi anni non è più così, quindi in genere un presidente ha due commissioni. Ecco, provveditore, gli esami quali saranno? Il calendario? Domani si comincia con la prima prova italiano. Il calendario con la prima prova italiano, poi dopo domani ci sarà la seconda prova che naturalmente specifica, è ministeriale però è specifica di ogni istituto e infine la terza prova che sarà lunedì e quella è proprio interna all'istituto, cioè ogni istituto predispone i vari docenti della scuola, predispongono delle domande e si danno queste domande ai ragazzi che hanno un periodo di tempo per poter rispondere a tutte le domande, la cosiddetta terza prova. E poi esami orali. Dopodiché ci sarà una somma delle tre prove e quindi la pubblicazione e i ragazzi poi potranno iniziare le prove orali. Quindi si parlerà la prossima settimana, i primi di luglio. Sì, la prossima settimana, sì, fine giugno, primi di luglio. E poi più in là si scoprirà chi dovrà tornare nella stessa scuola o chi potrà andare all'università o fare il lavoro. Io spero tanto di no che i risultati siano eccellenti per tutti, anzi ne approfitto della gentilezza che avete dimostrato invitandomi. Vorrei rivolgere il mio saluto a tutti i ragazzi che domani inizieranno questa fatica dicendo che noi persone di scuola siamo al vostro fianco, un bocca al lupo a tutti voi e soprattutto la raccomandazione di affrontare con estrema serenità questo momento. Io mi rendo conto che è un momento un po' particolare, è un momento in cui è la prima volta forse nel percorso scolastico di un ragazzo in cui un ragazzo si trova a far fronte a delle prove impegnative, perché sono impegnative, però a questo punto conta la maturità, quindi affrontare senza troppa ansia, saper controllare le emozioni, perché questo è estremamente importante, proprio avere il massimo di concentrazione e poi organizzare bene il lavoro e organizzare soprattutto il tempo che avranno a disposizione. Quindi io penso, dovete sapere che tutti noi abbiamo affrontato questo momento e l'ansia ci sta tutta, però dovete a un certo punto, se avete lavorato tutto l'anno con serietà ed impegno, non ci saranno assolutamente problemi. Oggi inizia convenzionalmente l'estate, il 21 giugno è infatti il sostizio d'estate ed è il giorno più lungo dell'anno con 15 ore e 15 minuti di sole. Vediamo. Oggi è il giorno più lungo dell'anno. Il 21 giugno viene infatti individuato come solstizio d'estate ed è la giornata con un maggior orario di sole. Pur essendo l'inizio dell'estate, da domani quindi le giornate inizieranno piano piano ad accorciarsi fino al 22 dicembre, giorno più corto dell'anno. Oggi il sole è sorto alle 5 e 36 per tramontare alle 20 e 51. Il giorno dura quindi 15 ore e 15 minuti. In corrispondenza del tropico del Cancro, il sole appare perfettamente perpendicolare sopra la testa, mentre al circolo polare artico non tramonta mai per l'intera giornata, contrariamente al circolo polare antartico dove si vivono 24 ore di notte. Tra l'altro questo 21 giugno 2016 vede un evento astronomico molto raro, ovvero la cosiddetta luna di fragola, una sovrapposizione di eventi astronomici che si ripeterà la prossima volta nelle 2062. Intanto godiamoci queste oltre 15 ore di sole, con un'estate che a questo punto sembra essere iniziata davvero e non solo dal punto di vista convenzionale. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, per un maltempo minore rispetto a quello previsto secondo l'allerta gialla, l'ARPAL è intervenuta illustrando il vero significato dell'allerta. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha otto mesi dall'introduzione dei nuovi codici e infatti ha voluto fare nuovamente chiarezza su questa allerta. Sentiamo. In merito all'allerta emanata nei giorni scorsi, l'ARPAL ricorda che l'allerta gialla per temporali avvisa su possibili conseguenze al suolo dovute ad un'alta probabilità che si verifichino fenomeni forti. Per la natura stessa del fenomeno copre un'area molto più vasta di quella effettivamente interessata dalle precipitazioni. Qualche giorno fa infatti l'intera Francia era in giallo per temporali. Nel weekend, secondo la protezione civile nazionale, praticamente tutto il centro-nord Italia. Proprio la natura del fenomeno fa sì che non debba piovere sempre e ovunque. Anzi, soprattutto nel caso di temporali, primaverili o estivi, è norma che il sole faccia capolino, come è successo anche nel corso dell'ultima allerta gialla in Liguria. Sono passati otto mesi da quando il 15 ottobre scorso la Liguria ha adottato il sistema di allertamento nazionale con i codici colore e che ha introdotto, tra le novità più significative, l'allerta per temporali. Questa allerta, conclude l'ARPAL, è uno strumento preventivo che serve ad avvertire le autorità locali su possibili effetti al suolo in termini di risposte di bacini piccoli, medi o grandi, causati ad esempio da precipitazioni diffuse o temporali. Per la cronaca prenderanno il via domani gli interrogatori delle persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sull'infiltrazione dell'andrangheta a Lavagna. Tra di loro anche l'ex parlamentare Gabriella Mondello e l'ex sindaco Giuseppe Sanguinetti. Vediamo. Sono previsti per domani i primi interrogatori di garanzia delle persone arrestate ieri nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell'andrangheta a Lavagna. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Carla Pastorini, si presenteranno l'ex sindaco Giuseppe Sanguinetti, l'ex consigliere comunale Massimo Tallerico e l'ex deputata di PDL Udc Gabriella Mondello. Insieme a loro saranno ascoltate anche le tre persone sottoposte a misure interdettive. Per la giornata di giovedì sono invece stati programmati gli interrogatori di cinque presunti boss del clan coinvolto nell'inchiesta. Secondo l'accusa sostenuta dal pubblico ministero Alberto Lari della DDA di Genova, i politici avrebbero ottenuto voti alle elezioni in cambio di favori per la gestione dei rifiuti e dei chioschi abusivi sul litorale di Lavagna. E a causa di un guasto alla condotta fognaria sottomarina della stazione di sollevamento fognario di Piazza Dolbecco, il comune di Imperia ha emesso un'ordinanza che vieta temporaneamente e in via cautelativa la bagnazione in un breve tratto di costa da Borgo Prino fino al punto di prelevo delle Ratteghe, situato lungo la passeggiata degli innamorati. I tecnici dell'AMAT verificheranno ora l'entità del danno per quantificare i tempi necessari per riparare la condotta. I carabinieri della compagnia di Sanremo hanno denunciato due donne francesi, 30 e 34 anni, per possesso di droga. Le due sono state fermate a bordo di un'auto sulla quale erano stati occultati 10 grammi di eroina già divisi in dosi pronte per lo spaccio. Le due francesi hanno riferito di aver portato la sostanza stupefacente dalla Francia all'Italia, ma i carabinieri non escludono che invece la droga stesse facendo il percorso inverso. Durante gli ultimi controlli della Polizia di Frontiera di Ventimiglia sono state arrestate 9 persone, tre di queste identificate su un pullman proveniente dalla Spagna, nonostante avessero documenti falsi. Erano ricercate per numerosi precedenti penali, per reati contro il patrimonio, false attestazioni e possesso ingiustificato di Grimaldelli. Diverse le accuse a carico anche delle altre 6 persone arrestate, tra cui furto, ricettazione, lesioni, resistenza e porto abusivo di armi. Crisi e difficoltà economiche, a quanto sembra, non risparmiano neppure il mondo dello sport e quello dei rally in particolare. L'associazione sportiva genovese Lanterna Rally e l'ACI genovese hanno infatti dovuto disporre il rinvio del tradizionale rally della Lanterna giunto alla 32esima edizione. L'appuntamento è stato posticipato al 29 e 30 ottobre a causa della mancanza di iscrizione dei concorrenti. Nella stessa date avrebbe dovuto tenersi il rally delle valli genovesi. Facciamo una breve pausa, tra poco. Proseguono ad Imperio Negli i festeggiamenti di San Giovanni con un ricco programma di eventi, molti di stand di enti ed associazioni e sempre apprezzata la parte gastronomica con piatti locali. Intanto domani sarà possibile assistere con un maxi schermo alla partita della Nazionale Italiana di Calcio. Vediamo. Con un clima finalmente estivo proseguono ad Imperio Negli i festeggiamenti di San Giovanni. Anche ieri sono state tantissime le persone che si sono recate nel piazzale Padre Cristino per assistere al programma quotidiano di eventi. Tra questi uno spettacolo di danza sportiva che ha visto come protagonisti tanti bambini che hanno ricevuto gradi applausi per la loro esibizione. Immancabile poi la parte gastronomica con i piatti tipici, tra cui anche la pasta al pesto. Metto basilico fresco, parmigiano, pinoli, sale e olio ottimo. Tutte le mattine faccio 10 chili di pesto per la serata, per sugo, per metterlo sulla pasta, per metterlo sul minestrone. Ad allietare i più piccoli è tornato anche quest'anno Pompieropoli con i giochi proposti dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i vari stand presenti sulle piazzale, anche quelli dedicati ai vari corpi delle forze dell'ordine. Qui abbiamo allestito un piccolo stand assieme ad altre forze di polizia e facciamo vedere qualcosa. Il più importante è la carica di Pasfrengo che è conosciuta dappertutto, un po' di materiale che richiama un po' questi materiali, quelli che sono in servizio, questo è stato qua a associazioni. Abbiamo il dono del generale Manfredioni che è stato qua comandante di gruppo e basta. Un grande uniforme che è l'emblema nostro, la divisa più importante. Intanto domani sera alle ore 21 sarà possibile assistere direttamente da Ineia 2016 alla partita della Nazionale Italiana di Calcio attraverso un maxischermo montato presso l'area Spettacoli. Da luglio a settembre tornano gli eventi a Borgo Marina a Porto Morizia d'Imperio organizzati dalla CIV in collaborazione con il Comune. Appuntamento Clu di agosto saranno le finali di Miss Italia per la Liguria. Vediamo il servizio. Giammar Cornelio, vicepresidente del CIV di Borgo Marina. Borgo Marina si infiamma di nuovo per l'estate. Una serie di eventi, luglio, agosto ma anche qualcosa a settembre. Sì, anche quest'anno speriamo di replicare il grande successo delle cene in Borgo dell'anno scorso. Partiamo col botto, nel vero senso della parola, col 22 di luglio con i fuochi d'artificio e andiamo avanti fino a settembre con la chiusura delle ville d'epoca. Il 19 agosto ci sarà la finalissima di Miss Italia e durante tutti i venerdì diverse serate con animazione, cene e quant'altro per far divertire chi verrà a Borgo Marina. Aspettate sicuramente tanta gente perché il 22 luglio fuochi d'artificio, poi il 29 mangiafuoco, il 5 agosto i trampolieri, circo di strada il 12 agosto, Miss Italia appunto il 19, ancora il 26 musica swing in strada, 2 settembre le bolle giganti, insomma ce n'è per tutti i gusti. Sì, abbiamo cercato di fare un calendario in collaborazione col comune molto variegato che prenda un po' tutti, giovani, più anziani, bambini e che possa così essere Borgo Marina un posto di riferimento per tutti in generale. Assessore Vassallo, ancora una volta avete trovato un incontro, la quadra come si suol dire con il CIV di Borgo Marina per garantire degli spettacoli, turisti e residenti saranno contentati? Assolutamente, mi auguro proprio di sì perché credo che col CIV c'è stato un buon lavoro di sinergia, è un calendario che è stato presentato mesi fa, insomma abbiamo fatto parecchi incontri per cercare di fare proposte che possano portare festa, allegria, turismo, promozione del territorio. Il CIV di Borgo Marina si è sempre dato da fare negli ultimi anni per portare queste serate in Borgo e credo che siano assolutamente uno dei motivi di orgoglio per la nostra città. Si parte il 22 di luglio con chiaramente fuochi d'artificio, poi avremo serate danzanti, serate di circo, serate di trampolieri, bolle giganti, chiaramente non mancherà Miss Italia, pertanto insomma ci sarà da divertirsi, ci sarà movimento e movida, quello che la nostra città ha bisogno di fare. Un grazie chiaramente particolare va al CIV di Borgo Marina per organizzazione e all'Ago Imperia anche che ci dà una mano a sostenere queste attività, dato il momento chiaramente di bassa economia che viviamo all'interno del comune, pertanto un sostegno sicuramente fa piacere. Anche questa volta Imperia vive. Sanremo accoglie invece per quattro giorni la grande box dell'ettantistica internazionale. L'importante evento sportivo si terrà a partire da giovedì prossimo 23 giugno nella Teatro dell'Opera del Casinò, tutti i particolari nei servizi. Nell'ambito del centenario della Fondazione della Federazione Pugilistica Italiana Sanremo accoglie per quattro giorni la grande box ad alto livello di lettantistico nazionale e internazionale. Nel Teatro dell'Opera del Casinò, splendidamente modificato per l'importante evento sportivo, si svolgeranno tutti i match in calendario. Come sono articolati questi incontri? Per quanto riguarda l'evento internazionale, sono dieci match di tutte le categorie, di cui abbiamo la nazionale italiana con i qualificati olimpici contro la nazionale francese. Poi abbiamo il torneo femminile, il guanto d'oro femminile, che è un torneo d'eliminazione. Comincerà con circa 80 ragazze che si scontrano nei quarti di finale, andrà ad eliminazione sulle sebe in finali al sabato e le finali la domenica. Vogliamo ricordare il grande sforzo che avete fatto per organizzare questo grande evento? Il grande sforzo non è stato grande, è stato immenso, anche perché la tempistica che abbiamo avuto è stata veramente risiccata. Tutto quanto è partito dalla metà di febbraio, con i primi contatti e tutto. Non è stato facile mettere assieme tutto, non è stato facile perché abbiamo dovuto alloggiare circa 200 persone per questi quattro giorni, quindi trovare le strutture alberghiere, trovare la location, trovare il coordinamento tra comune, casino e tutto quanto, non è stato facile. Siamo alla fine di giugno, siamo a Sanremo e quindi non è stato facile, è stato non un duro impegno, ma un impegno massacrante. Il via è previsto per giovedì 23 giugno alle ore 18 con la sfida internazionale tra Italia e Francia maschile per un totale di 10 incontri, tre round da tre che vedranno salire sul ring alcuni tra i protagonisti delle prossime Olimpiadi a Rio de Janeiro. Sì, abbiamo questi campioni qua, allora le nazionali dopo di noi partiranno per Porto Torres in Sardegna per fare un altro incontro laggiù e poi dopo 10 giorni i qualificati olimpici partono per Rio de Janeiro a tenere alta la nostra bandiera. Speriamo che ci torni qualche risultato come negli anni passati. La grande box torna a Sanremo e proprio qui la federazione ha fondato le sue radici. Sì, perché effettivamente 100 anni fa, nella primavera del 1916, alcuni appassionati sanremesi in questa città hanno fondato la federazione pugilistica italiana e precedentemente, l'anno prima, hanno anche organizzato sempre come oggi, anche allora, in un locale del Casinò di Sanremo, precisamente il giardino d'inverno, i primi campionati italiani. Quindi possiamo tranquillamente dire e ribadire che Sanremo è la città che è più adatta al pugilato italiano e anche alla federazione che oggi lo rappresenta. Ad organizzare l'evento è Sanremo Box con il contributo e il sostegno di Comune di Sanremo, Regione Liguria e Casinò, oltre ad alcuni partner privati. La Confcommercio di Diano Marina ha espresso soddisfazione per la decisione del sindaco Giacomo Chiappoli di riaprire l'ufficio di formazioni per il turismo. La riapertura per ora riguarda soltanto i mesi estivi, ma la Confcommercio auspica che la stessa possa protrarsi per tutto l'arco dell'anno. L'OIAT si trova in Via Genale, accanto alla chiesa parrocchiale, e resterà aperto fino ad ottobre con orario continuato. La gestione è stata affidata dal Comune all'AGM, con una spesa di poco superiore a 35.000 euro. E si darà domani all'Imperia, presso la sede della Camera di Commercio delle Riviere, alle 14.30, un incontro sul nuovo codice degli apparti, dal titolo Apparti e legalità nell'impresa delle norme e nell'autoregolamentazione. L'evento formativo è in corso di accreditamento per gli avvocati dell'Ordine. Sono stati più di 100 gli atleti a corsi da Liguria, Piemonte e Lombardia, che hanno partecipato al primo Aquatron di ospedaletti inserito all'interno del Trofeo Riviera Triathlon 1992, un evento che ha l'obiettivo di promuovere la multidisciplina nella provincia d'Imperia. Il prossimo appuntamento con il Trofeo Riviera Triathlon 1992 sarà sabato 9 luglio a Riva Ligure. E sono stati assegnati a Genova i giochi europei giovanili paraolimpici che si svolgeranno nella seconda metà del 2017. La manifestazione coinvolgerà più di 600 atleti Under 21, ma è presumibile che arrivino in Liguria durante la settimana delle gare almeno migliaia di persone, tra accompagnatori, team sportivi e genitori dei ragazzi protagonisti dei giochi. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Evente, ci copriamo di Autoflori e Quadrometeo. Autore dei sottotitoli e Quadrometeo Grazie a tutti. Non sono segnalati i cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'Autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti i cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la careggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile e inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it Vediamo le previsioni del tempo con Arpal Meteo Liguria domani e mercoledì 22 giugno. Sarà una bella giornata di sole con condizioni tipicamente estive. Umidità su valori medi, venti deboli, regime di brezza, il mare quasi calmo o poco mosso. Dopodomani giovedì 23 giugno nessuna variazione nella situazione meteo e un'altra bella giornata di sole per la nostra regione. Umidità su valori medi, i venti fino al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, poi deboli in regime di brezza, il mare sarà quasi calmo. Bene, noi ci fermiamo qui, torniamo alle prossime edizioni oppure se volete sul nostro sito www.imperiativ.it Grazie dell'ascolto, buona serata.